Amici ed appassionati, cercatori di fughi, buongiorno. Questa è una ripresa di una tavolata di quelle che chiamano colombine o morelle, sono delle russole, nella varietà cianoxanta in particolare, comunque una delle migliori. Questa è la raccolta di una giornata, di una mattinata diciamo. Di queste ce ne sono quante se ne vuole, ma quello che è decisamente più interessante è questa cassetta di Bolletti e Stivensis, un porcino estivo, detto testativo. Qualcuno di questi l'ho ripreso nel mentre lo collievo sulle pareti, sono due chili e mezzo, una valle dell'Iene, più tutte queste, chiamiamole morelle. Questa è la mia giornata di raccolta, buona fortuna.